Ragazzi buongiorno, so che l'amate, so che l'Italia ti conosce già, buongiorno Mery! Ma già si non fa... Ma già non fa alcuna... Valla a lavorare perché in questo tempo che perde io non la pago. Ma no, Mery, un straccio magari fuori, Mery. Già è accalata di mattina. Tutto a posto, ma partiste oggi dal balcone perché ti hanno acciclato come una uglia pezza. Sì, sono partito dal balcone perché siccome c'è tutto il fango giallo e quindi giustamente... Sì, ma ora ti dicono Mery tutta questa saponata, ora la lascio a cuore il buono per chi si che scatti. Tutti io andiamo a fare. Tutti io andiamo a questi fanno. Vabbè ragazzi. Non mai che già mi seguono capiscono come fanno. Vabbè ragazzi, a dopo, buongiorno a tutti. Mery dicelo buongiorno però. Buongiorno ragazze! Buongiorno a tutti da sta puliziano, a dopo, a dopo. No, perché poi voi ne dovete andare con un gioco e spiccate. Non nemmeno a dire. Ma anche tu sai i nostri impegni ora. Guarda che stavano armando, dici che erano spicciate che quattro venite a dire. Sì, certo. Vabbè, a dopo, a dopo. Eeeh. Eeeh. Eeeh.